Musica Buonasera, bentrovati in diretta dagli studi di Telebari. L'autonomia differenziata tiene banco nel festival delle regioni e non mancano scintille tra il governatore della regione Lombardia, Attilio Fontana, il presidente della regione Puglia, Michele Emiliano. Sentiamo. Partiamo dal presupposto che la situazione che oggi voi lamentate giustamente non deriva certo dall'autonomia differenziata ma al contrario deriva dal centralismo che ha sempre creato delle condizioni estremamente difficili per il sud. Quindi io dico se non altro per cercare di cambiare sistema varrebbe la pena dirigerci verso l'autonomia. Ma l'autonomia differenziata sulle grandi opere pubbliche, ripeto, non c'entra niente. L'autonomia differenziata è una delegazione amministrativa. L'autonomia differenziata è semplicemente individuare alcune competenze, individuare alcune funzioni che oggi svolge lo Stato spendendo una certa cifra e poi dire che quella stessa attività, quella stessa funzione viene invece che dallo Stato svolta dalle regioni e lo Stato passa alle regioni la cifra che ha svolto fino adesso. E stamattina è stata la volta del ministro per gli affari regionali Roberto Calderoli. Sentiamo. Bari si trasforma nell'arena del dibattito politico nazionale. Ministri e governatori sono infatti i protagonisti del Festival delle Regioni inaugurato ieri dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La seconda giornata dell'evento è cominciata negli spazi del Teatro Petruzzelli. Sul tavolo ancora una volta l'autonomia differenziata. Roberto Calderoli, ministro per gli affari regionali, ha aperto i lavori con una relazione sul tema. Al centro del discorso ci sono i livelli essenziali delle prestazioni che secondo il ministro azzereranno le distanze tra le regioni. È un lavoro grosso, in un campo enorme e inesplorato, che qualcuno però doveva fare. È da 23 anni che la definizione dei livelli essenziali è rimasta all'anno praticamente vero. Io credo che questo lavoro sia un lavoro meritorio, perché al di là che uno piaccia o non piaccia, che ci sia un'autonomia oppure no, il livello essenziale delle prestazioni concernenti diritti, i civili sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, è un obbligo di diritto. Sulla questione sono intervenuti i governatori di Puglia e Veneto. Emiliano ha sottolineato la sua contrarietà alla legge, Zaia invece si è scagliato contro le regioni che chiedono a gran voce il referendum. Ma è inutile parlarne oggi, e comunque il governo ha preso le sue decisioni. Abbiamo deciso di evitare il dibattito politico per una settimana, una specie di tregua, che devo dire, per quello che sta succedendo, stanno mettendo a dura prova la mia volontà di autocensurarmi. Questo sì, ve lo posso confessare. Quelli che oggi vorrebbero arrestare questo processo sono esattamente gli stessi che nel 2014 hanno impugnato la mia legge regionale che prevedeva la possibilità di fare il referendum. Impugnare una legge regionale per vietare i Veneti di essere auditi su un quesito non sovversivo, cioè vuoi che la regione Veneto siano attribuite nuove forme e condizioni particolari di autonomia, a me sembra molto grave. La cronaca, incidente mortale questa notte, l'altezza di Torre Quetta, un diciottenne, ha perso la vita, gli altri sono ricoverati due in gravi condizioni nel reparto di rianimazione. Sentiamo. I vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte sotto i fari con cesoi e divaricatori per estrarre i feriti dalle lamiere. Il volo, nella Scarpata, a pochi metri dal torrente Valenzano, ha distrutto guardrail e marciapiede e lasciato una scia di erba bruciata lì dove l'auto si è più volte ribaltata. E di quattro feriti è un morto. Il tragico bilancio dell'incidente è avvenuto questa notte intorno a Luna sul lungomare, tra Torre Quetta e Pane Pomodoro. La mini cooper su cui cinque ragazzi viaggiavano, per cause ancora da accertare, è finita fuoristrada e si è ribaltata ripetutamente. Sul posto sono intervenuti la polizia locale e due squadre dei vigili del fuoco insieme al 118. I cinque, quattro diciottenni e un diciannovenne, sono stati trasportati in codice rosso in ospedale. Il diciottenne è morto subito dopo il suo arrivo al divenere. Si tratta di Francesco Damiani, per gli amici Checco, un giovane barbiere del quartiere San Paolo. Era un bravissimo ragazzo, davvero eccezionale. Mi mancheranno le sue richieste di consigli e le chiacchierate al bar. È il ricordo commosso del farmacista della zona Cecilia, che ogni giorno incontrava Francesco nelle pause da lavoro nel salone di Via Pescara, nel cuore del rione. I due ricoverati al policlinico sono entrambi in rianimazione. Uno è intubato con trauma cranico e contusioni polmonari, l'altro è stato operato d'urgenza per la lacerazione della milza. Fratture varie ed è anche lui intubato. Un terzo ragazzo, meno grave, è ricoverato al divenere sotto osservazione nel reparto di ortopedia. Il quarto, infine, si trova nella chirurgia generale del San Paolo, per sospetta lesione alla milza, ma non è in pericolo di vita. E adesso gli aggiornamenti dal nostro sito www.telebari.it Lo facciamo con Tiziano Tridente. Tiziano, buonasera. Sì, eccoci Cristiana dal nostro sito. Due ragazzi che prima si sfogano su una panchina per distruggerla e poi mirano la vetrata del Deor di un ristorante tirando un calcione, scheggiando il vetro e quanto mostrato dalle telecamere di sicurezza del Drop, locale in corso Vittorio Emanuele a Bari, che alle due della scorsa notte ha inquadrato la scena appena descritta. Un danno non molto ingente dal punto di vista economico, ma è il sintomo di una situazione che dà l'impressione della classica coperta corta, spiega il proprietario del locale, rispetto ai controlli dell'ordinanza antimalamovida disposti nella zona dell'Umbertino. Cambiamo argomento. Da questa mattina i vigili del fuoco sono impegnati in provincia di Matera e Potenza per decine di interventi legati al maltempo che sta colpendo gran parte della Basilicata. Maggiori criticità nel Materano, in particolare a Tursi per le sondazioni dell'Agri, un elicottero del reparto volo di Bari ha portato in salvo tre persone, rimaste bloccate con il loro trattore su un isolotto nell'alveo del fiume per il repentino innalzamento del livello dell'acqua. Sempre nel comune di Tursi, i vigili del fuoco hanno soccorso anche due pastori che per evitare di essere travolti dalla corrente si sono dovuti rifugiare in cima a un albero. In chiusura, gli attimi di paura vissuti oggi su un aereo ITA che dall'aeroporto di Milano di Natera ha diretto a Bari. A pochi minuti dalla partenza, infatti, un detenuto, che era stato appena imbarcato, scortato dalla polizia penitenziaria, ha avuto uno scatto di ira scatenando il panico a bordo del velivolo. La situazione è stata subito riportata alla calma dalle agenti e l'uomo è stato fatto scendere immediatamente dall'aereo mobile, partito da Milano e poi atterrato a Bari con circa un'ora di ritardo. A te. Grazie Tiziano, sono al via i lavori di potenziamento di rete ferroviaria italiana della recinzione attorno al Cara di Palese. La decisione è stata presa a seguito di numerosi attraversamenti non autorizzati dai binari ferroviari da parte di persone estranei avvenuti proprio in prossimità del centro. Il servizio. Troppi attraversamenti sui binari e rete ferroviaria italiana rinforza la recinzione del Cara di Bari, d'intesa con la Prefettura. RFI ha avviato i lavori per irrobustire e innalzare la recinzione del centro di accoglienza per richiedenti asilo che si trova a ridosso dei binari ferroviari a nord della città. In passato quella tratta è stata più volte interessata, proprio l'altezza del centro, da incidenti e pesanti ripercussioni sulla circolazione dei treni, perché in diversi casi i migranti scavalcavano la recinzione del centro e attraversavano i binari per andare in città. Si tratta del centro che da sabato scorso ospita anche i 12 migranti che sono stati portati in Italia dopo la mancata convalida del trattenimento del centro italiano di Giader in Albania. Da ottobre 2023 a gennaio 2024, riferisce rete ferroviaria italiana in una nota, si sono registrati molti episodi di attraversamento in debito che hanno coinvolto oltre mille treni determinando consistenti ritardi, cancellazioni e limitazioni di percorso. Questa misura di prevenzione, adottata da RFI d'intesa con la Prefettura, mira a disincentivare tali comportamenti. Rete Ferroviaria Italiana specifica anche che l'intervento, che consiste nella realizzazione di una recinzione lunga oltre 300 metri, dotata di un pannello superiore con profili anti-scavalco, è stato in parte eseguito e se ne prevede il completamento entro il mese di novembre. In arrivo, nuovi impianti di video sorveglianza di diverse vie nel capoluogo pugliese. I dettagli in questo servizio di Serena Russo. Un elenco di aria rischio per le quali si è presentata l'urgente esigenza del monitoraggio. E' partita da qui l'analisi che ha portato alla definizione delle strade da dotare di nuovi impianti di video sorveglianza nel capoluogo pugliese. Via Tatarella, piazza di sfida di Barletta, il sottopasso di via delle Murge e ancora, vicinanze Palaflori a Iapigia, l'impianto sportivo, leo dell'acqua a Carbonara o Villa Bonomo su via Mendola. Tutte strade, e questa ne è solo una piccola parte, che a stretto giro potranno contare su nuovi sistemi di monitoraggio per un importo complessivo stimato pari a 523 mila circa. Parliamo di tecnologie altamente performante, capace di soddisfare le esigenze di sicurezza continuamente in aumento. Il Comune di Bari potrà inoltre, in fase di redazione del progetto esecutivo, valutare la possibilità di dotarsi di nuovi impianti di lettura targhe completi per il controllo stradale, al fine di ottenere un valido supporto nel rilevare importanti infrazioni e garantire la sicurezza cittadina. In questo modo, attraverso la scansione della targa, sarà inoltre possibile risalire a irregolarità derivanti da autorubate, poste sotto sequestro o inserite nella blacklist della polizia. In Giunta abbiamo approvato un progetto per l'implementazione di nuovi impianti di videosorveglianza che dedicheremo principalmente alle aree sfornite, tipo parcheggi, piazze, giardini, dove si sono verificati i ripetuti episodi di bullismo, baby gang o micro criminalità. In realtà questo è solo uno dei finanziamenti che noi dedicheremo all'implementazione di questi sistemi perché abbiamo in piedi due accordi quadro da 4 milioni di euro, uno triennale e uno quadriennale e nella prima annualità 2024 impegneremo entro fine anno 100.000 più 400 più i 500 del Ministero. Insomma, stiamo vicini al milione di euro per sistemi intelligenti, quindi ad alta risoluzione, in risoluzione in 4K e poi con intelligenza artificiale, con un sistema che sarà in grado di riconoscere comportamenti tendenzialmente pericolosi e quindi far partire un'allerta alla sala operativa della polizia locale. A rischio i lecci in città colpiti da un parassita. Sono stati avviati interventi per salvarli? Vediamo quali in questo servizio. L'allarme è già stato lanciato nei mesi scorsi da tanti cittadini preoccupati per la moria di lecci, soprattutto in Piazza Umberto. È una delle grandi minacce al verde urbano e il dissecamento dei lecci particolarmente diffusi a Bari, dove se ne contano 3.500, aggrediti da un agente patogeno più aggressivo della cocciniglia, particolarmente insidiosa per molte specie arboree. Un'epidemia, ha spiegato il sindaco Vito Leccese durante la nostra rubrica del venerdì, che sta colpendo i lecci in tutto il bacino del Mediterraneo. Gli alberi sono stati già sottoposti a un trattamento iniziato due mesi fa, che viene effettuato solo durante le ore notturne e su qualche arbusto si iniziano a intravedere segnali di ripresa. È piena di alberi di leccio, di quello che si chiama Quercus Ilex, che è stato aggredito da un agente patogeno più aggressivo della cocciniglia, per cui è un fenomeno in tutta Italia, anzi nel bacino del Mediterraneo, che sta aggredendo i lecci. A Bari ce ne sono ben 3.500. Abbiamo iniziato il trattamento già due mesi fa, ovviamente è un trattamento che può essere fatto soltanto nelle ore notturne, perché si usano dei prodotti che in qualche modo vengono irrorati sull'albero, quindi non si può fare quando c'è passeggio. E stiamo procedendo. Mi dicono che soprattutto sugli alberi di Piazza Umberto ci sono i primi segnali di ripresa del leccio. Speriamo. Il divario di genere nelle imprese. Il time al centro dell'incontro in Camera di Commercio per la settimana dedicata all'energia e alla sostenibilità. Le imprese parlano ancora al maschile nonostante aumentino le aziende al femminile. Il divario di genere resta lo spunto per un focus sul superamento della questione di genere offerto dalla settimana per l'energia e la sostenibilità, che si è aperta oggi con un incontro alla Camera di Commercio. Il tema dei temi è il caso di dire con le nuove sfide di oggi e del futuro a difesa del pianeta. Scontiamo un gap rispetto all'occupazione femminile molto importante, nel senso che sul 50% della media degli occupati alle donne il dato, soprattutto in Puglia, scende al 37%. Questo è un aspetto che deve tenerci sempre allerta, perché l'occupazione femminile e l'occupabilità delle donne nel mondo del lavoro in realtà garantisce la crescita del PIL per l'intero sistema paese. Nonostante la Puglia stia investendo per ridurre il gap di genere, rappresenti uno dei territori più dinamici del mezzogiorno, i dati ci mossano che la strada è ancora lunga, soprattutto nel sistema delle imprese. Ricordiamo che intorno alle 400.000 imprese di cui la Puglia si può vantare, circa 88.000 sono quelle guidate da donne. Oltre mezzo secolo di vita era chiuso in due quaderni di richieste di farmaci sgrammaticate custoditi dal farmacista barese Vincenzo De Giglio. Il dottore, 78enne, possiede una collezione di pizzini scritti su foli di giornale, pacchetti di sigarette e pezzi di compensato dai pazienti che abitavano nel villaggio Trieste, dove dal 1981 sorge la sua farmacia. Giuliana Vendola lo ha intervistato e ha raccontato la sua storia. Sentiamo. Io sono l'ultimo dei romantici. Il dottore Vincenzo De Giglio, farmacista barese dal 1970, ha proprio ragione. Lo è. Non si riesce a pensare ad altro quando si è dinanzi a lui, 78 anni all'anagrafe, ma con l'animo di un 39enne. E ci tiene a sottolinearlo quando ci vede sulcare la soglia della sua storica farmacia nel villaggio Trieste di Bari, punto di riferimento dall'81 per gli abitanti del quartiere Marconi. Basta lasciarsi guidare dal dottore, andare dietro il bancone, superare le scaffalature piene di farmaci e raggiungere il magazzino all'interno per farsi sopraffare dal romanticismo che lui cerca di mascherare indossando una t-shirt davvero rocker. In un attimo il farmacista apre il suo armadietto e tira fuori i due quadernetti coi suoi diari di pizzini ricevuti dai pazienti in oltre mezzo secolo di attività, raccolti con amore e custoditi per anni come c-maili negli archivi dell'Ordine dei Farmacisti di Bari. Richieste di farmaci sgangherate, scritte a penna sul foglio di giornale, carte del pane, buste per le lettere, pezzi di compensato e pacchetti di sigarette, appunti segnati dalle mamme di quel rione schiacciato tra la Fiera del Levante e l'ex stadio Vittoria di Bari, costruito nel 1956. Dalle pinule per fare aria, alla topit per le capezze, la lista di frasi memorabili è lunghissima e tutta da spulciare, anche per capire usi e costumi del dopo guerra. Le sacche di analfabetismo erano ampie, la guerra era finita per 25 anni, quelle mamme hanno frequentato le elementari durante la guerra, chi sa come le hanno frequentate, queste sono le nostre radici, noi da qua veniamo e non è che veniamo da qualche altra parte. C'è un'infinita dolcezza nei preziosi diari del 78enne che ci aiuta a rimettere insieme i pezzi di un'Italia amara, di una Bari in cui dilagavano fame e analfabetismo, ma che con pragmatismo e anche un po' di ironia, riusciva a sopravvivere e a far germogliare intere generazioni. Cosa le manca di più di quel periodo? La serenità, la dolcezza delle persone. Prima in farmacia si parlava sotto voce, non c'erano i telefonini, non c'erano i seranti che si passavano, la gente alle tre di notte entrava in farmacia. Buonasera e buongiorno, o mi scusi dottore. A distanza di soli due mesi dall'insediamento, la Commissione welfare anziani, minori, famiglie e persone con diversabilità del secondo municipio ha mostrato grande impegno durante i lavori delle sedute quotidiane, riuscendo a presentare al Consiglio Municipale del 18 ottobre le linee di indirizzo del progetto intitolato liberamente i minori al centro concernente la realizzazione di attività pomeridiane, ludico, ricreative e sportive e per offrire a bambini e ragazzi opportunità educative e formative di gioco, di divertimento, tese a qualificare e valorizzare il tempo libero destinato ad almeno 30 minori di età compresa tra i 6 e i 17 anni residenti sul territorio. Il progetto è il risultato di un grande lavoro da parte dei consiglieri Valentina Prea, Giuseppe Bondanese, Emanuela Fiorentini, Luigi Intranò, Giovanni Romito, Luigi Schirone, del presidente di Commissione Marco Pesce unitamente al supporto della presidente del secondo municipio, Alessandra Lopez. E adesso le notizie dall'area metropolitana e dalla regione. Andiamo a San Severo che ci fa tornare sulla cronaca. I carabinieri hanno arrestato un uomo e una donna che viaggiavano con 15 chili di hashish nascosti in auto. Il servizio è di Nicola Saracino. I carabinieri della compagnia di San Severo hanno arrestato in flagranza di reato due persone originarie della provincia di Caserta accusate di trasporto e detenzione di sostanze stupefacenti. Durante un controllo della circolazione stradale i carabinieri hanno notato un'autovettura sospetta transitare a velocità sostenuta verso il centro abitato di San Severo. Dopo averla raggiunta hanno effettuato un controllo sul mezzo e identificato gli occupanti un uomo e una donna i quali però alla vista dei militari si sono mostrati inspiegabilmente agitati. Dopo la perquisizione personale e veicolare i due sono stati trovati in possesso di ben 15 kg di hashish suddivisi in panetti da 100 g nascosti accuratamente nel portabagagli e in appositi scompartimenti ricavati nel vano anteriore delle presidari del veicolo. Per i due sono scattate le manette. Lusinghiero, il bilancio delle visite estive alle grotte di Castellana è stata sottoscritta anche una convenzione con aeroporti di Puglia. ci dice tutto Francesco Russo. Circa 160.000 visitatori tra il primo giugno e il 15 settembre sono scesi nelle profondità delle grotte di Castellana il sito carsico più visitato d'Italia nel complesso dei 1.800 tour proposti a brillare Eilind Cave lo spettacolo dell'inferno di Dante nella grave che ha registrato oltre 3.000 spettatori e 12 repliche una media di 400 partecipanti per le visite alla Grotta Bianca alle osservazioni astronomiche e alle Speleonite Speleo Family con un forte richiamo di fruitori internazionali non a caso la promozione del sito carsico è arrivato a luglio anche a New York con la proiezione dello spot in Times Square la pubblicità sui busanta barabari e la collaborazione con Federal Berghie la stagione appena trascorsa ha visto anche un'accelerazione della crescita dei followers sui canali social delle grotte con più 60% tra Instagram e Facebook stipulata anche una convenzione con aeroporti di Puglia con una tariffa promozionale sui biglietti acquistati online per l'accesso al tour completo alle grotte a tutti i visitatori muniti di biglietto aereo in arrivo e partenza dagli aeroporti di Bari Brindisi e Foggia che ospiteranno anche Infopoint dedicati Confcommercio Taranto scende in piazza contro l'amministrazione comunale per denunciare il degrado urbano in cui versa il borgo della città e per la mancanza di parcheggi che stanno causando la chiusura di diversi negozi anche la desertificazione dello stesso borgo a favore dei grandi centri commerciali ci dice tutto Angelo Ingenito Il borgo un tempo fulcro vitale della città sta lentamente spegnendosi come una candela come dimostrano le numerose saracinesche abbassate Questa situazione è inaccettabile e non ci rassegneremo per questo motivo abbiamo in programma di intraprendere prossimamente forti azioni di protesta Queste le parole del presidente di Confcommercio Leonardo Giangrande Noi in qualche modo dobbiamo smuovere le coscienze non possiamo pensare di continuare a subire costantemente chiusure costantemente una situazione di degrado una non pianificazione del territorio quindi abbiamo voluto e vogliamo con questa petizione coinvolgere i cittadini vogliamo coinvolgere le altre associazioni vogliamo coinvolgere gli ordini professionali vogliamo dare come dire vogliamo lanciare un grido di dolore enorme perché noi quello che assistiamo solo chiusure poi dall'altra parte abbiamo tentato in tanti modi di sederci e discutere con l'amministrazione ma voi capite che è difficile sedersi con chi cambia assessori ogni 3-4 mesi cioè già portare avanti un'amministrazione un assessore 5 anni e fai fatica immaginate un attimino ogni 3-4 anni abbiamo chiesto e problematiche ce ne abbiamo tante il borgo soffre il discorso dei parcheggi abbiamo il palazzo degli uffici abbiamo la città vecchia che non viene riqualificata abbiamo un decoro che non c'è abbiamo una città che ovviamente continua a chiudere attività sotto il silenzio totale di tutti ci dobbiamo fermare ci si devono fermare tutti stiamo facendo prendere atto di questa situazione non solo ai commercianti ma ai cittadini firmando perché il borgo deve diventare un valore il palazzo Archita deve diventare e deve aprire ci devono dire in che tempi apre la stessa piazza Fatini il mercato deve diventare un valore per quella che è una visione commerciale e turistica della città in altri luoghi i mercati diventano polo attrattivo non capisco perché l'amministrazione minimizzi e pensi che tutto debba circolare da un restyling di carattere logistico che però deve avere dei contenuti più seri per il bene dei commercianti dei cittadini e della città tutta e per questa edizione del TG Sera è tutto grazie per averci seguito buon proseguimento di serata amici tra i bimeteo bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di martedì che tutto sommato vedrà il centro nord a pressione atmosferica abbastanza alta quindi condizioni meteo buone il sud Italia invece sente l'influenza di un'area di bassa pressione presente sul Mediterraneo occidentale e che spingerà nuove nuvole e nuove acquazioni verso parte appunto del nostro sud vediamo la previsione della nuvolosità con ampie zone di sereno al centro nord attenzione solo a un po' di nubi bassi e foschie in pianura padana a primo mattino il sud invece come vedete deve fare i conti con un po' di nuvole che risalgono dai quadranti meridionali spinte da quest'area di bassa pressione anche come precipitazioni è il sud che dovrà fare i conti con qualche acquazzone in particolare la Sicilia e la Calabria lì anche con qualche temporale attenzione in Sicilia potremo avere fenomeni localmente piuttosto intensi quindi in definitiva martedì bello al centro nord a parte diciamo un po' di foschie qualche banco di nebbia a primo mattino in Val Padana il sud con tempo più variabile la Sicilia con il rischio di pioggia equazioni un po' forti e poi a fine giornata nubi in aumente qualche goccia di pioggia anche tra Lazio e Campania ma per i dettagli sulle vostre località aggiornato scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo Grazie a tutti